Radio Radicale, siamo con l'Onorevole Gianni Girelli del Partito Democratico per parlare con lui della Nato, ovvero di quello che ha detto la segretaria del PD, Elislein, sulla Nato, che ha parlato di autonomia strategica dell'Unione Europea. Allora, che cosa intendeva dire la leader del PD? Sì, ma è chiaro che interpretare il pensiero altrui è sempre un esercizio difficoltoso, però penso che la posizione del PD sia sempre stata anche molto chiara nella scelta atlantica, quindi di piena adesione alla Nato in questo periodo storico, anche di grosse difficoltà internazionali. Penso che sia proprio una delle questioni a mettere in dubbio, ma nello stesso tempo il comprendere come vivere all'interno della Nato come Unione Europea, perché è abbastanza evidente che nel corso di questi anni è stato troppo debole l'apporto che l'Unione Europea nel suo complesso ha saputo dare anche sugli scenari internazionali. Non si tratta di avere maggior peso come singola nazione, come, ahimè, anche alcuni stati dell'Unione Europea ogni tanto fanno. Si tratta davvero di riuscire a mettere a punto una politica estera comune e anche una strategia di difesa comune, che all'interno della Nato possa essere un partner di pari dignità agli Stati Uniti. Allora, lei interpreta queste parole della Schlein come una critica diretta all'Unione Europea, a Stoltenberg o agli Stati Uniti? Ma io lo voglio interpretare come un proposito di rafforzamento dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che siamo a ridosso di elezioni che per la prima volta rischiano di mettere in discussione il processo di aggregazione di maggior ruolo dell'Unione Europea. E quindi penso che il richiamo di Alice Line, proprio su questo punto, è un richiamo di una scelta europeista, su forze europeiste, come lo è il Partito Democratico, che sappia costruire questi scenari futuri. Più che una critica alla fotografia dell'oggi o quello che è stato, lo voglio leggere come un invito alle scelte future. Senta, allora, io la prima cosa a cui ho pensato quando ho sentito le parole del leader del PD sulla Nato, ho pensato alle dichiarazioni del candidato PD Tarquinio, che aveva fatto una proposta, aveva detto delle cose diverse dalla Schlein, aveva detto che i paesi dell'Unione Europea devono uscire dalla Nato e rinegoziare come Unione Europea l'ingresso nell'organizzazione. Allora, può darsi che Tarquinio abbia capito male un concetto che gli è stato spiegato dalla Schlein sulle linee della politica del PD nei confronti della Nato? Scusi, è una domanda un po' molto contorta. No, l'ho compresa bene. Io, ripeto, la posizione del Partito Democratico è ufficiale, è quella che riassumevo prima, ma non si vuole mettere in discussione nulla, anzi ci mancherebbe altro. Si tratta di viverlo in maniera diversa. Penso che siano comunque argomenti da trattare con la massima delicatezza, non possono essere così frutto di qualche estemporaneità o dichiarazioni così messe a margine di altri ragionamenti. Sono questioni che hanno a che fare con la natura stessa dei partiti e quindi anche l'identità dei partiti e l'adesione delle persone ai partiti stessi. Non possono essere oggetti di cambiamento di opinione così, molto estemporanei e all'ultimo momento. Aggiungo che in una democrazia matura, quale dovrebbe essere quella italiana, sono anche quelle questioni sulle quali ci dovrebbe essere un massimo unità nazionale. Persino lo scontro dialettico interno non è comprensibile. Certo, vien da pensare alla crisi di sistema che viviamo noi in Italia, ma pensiamo agli scenari degli Stati Uniti, la discussione di Trump sulla Nato e sul futuro della Nato, che a maggior ragione, io credo, deve essere accompagnato da una maggiore consapevolezza e presa di responsabilità da parte dell'Unione Europea. Tutto questo confronto da Trump ad altri Stoltenberg, crede che abbiano indebolito o scalfito il potere negoziale della Nato nel suo complesso? Io credo che abbia scalfito l'autorevolezza di un certo mondo, quello che una volta veniva detto l'Occidente, sugli scenari internazionali. Una crisi di autorevolezza, la mancanza di leader negli Stati Uniti e ahimè anche in Europa si sente, si sente come. Penso che fenomeni come quello di Putin o tanti altri, perché non è solo questione di Putin, sarebbero ridimensionati se si trovassero di fronte leader autorevoli capaci di fare sintesi tra più realtà. Purtroppo non sta avvenendo. Bene, io la ringrazio grazie a Gianni Girelli del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato dell'Unione Europea, della Nato e del futuro della pace in qualche modo. Grazie.